con me. Ma tu ci vuoi tornare con Roberto? Ma a me piace ancora Gigi. Oh ma sei dura eh! Ma come quella è andata a vivere con Francesca e tu ancora pensi a lui? Io cosa so. Ecco qua, questa con il tacchino per l'amica Lice e questa con lo speck per l'amica Laura. Grazie Gabriele. Buon appetito ragazzi. Grazie. L'hai più sentita Francesca?